Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero come scegliere il cane. Il cane infatti non va scelto per la sua bellezza, né per le mode, o perché l'avete visto in un film, o perché ce l'ha il vostro vicino di casa, ma va scelto per il carattere, in base al suo carattere e alle sue attitudini e motivazioni di razza. E soprattutto va scelto anche in base al vostro stile di vita, ai vostri ritmi quotidiani, alle vostre attitudini, quindi se siete persone più sportive piuttosto che se siete più pantofolai e preferite fare le coccole sul divano. È importante considerare anche il luogo in cui vivete, quindi proprio l'abitazione stessa, se vivete in un monolocale oppure in una villa in campagna. E il contesto in cui il cane si troverà a vivere quotidianamente, quindi se siete in un contesto urbano, in una zona molto trafficata, oppure in aperta campagna. E considerare la presenza di aree verdi vicine, facilmente raggiungibili, oppure la vostra disponibilità a spostarvi in macchina per raggiungerle. Prendere un cucciolo o un cane adulto presuppone un impegno molto differente, quindi dovete anche considerare l'energia e la pazienza che avete a disposizione e il tempo che potete dedicargli. Se avete scelto di prendere un cane di razza, è bene andare a conoscere diverse volte il cucciolo, parlare con l'allevatore, cercare di capire il più possibile come vengono allevati i cuccioli nei primi mesi di vita. Se avete deciso di adottare un cane di canile, anche in questo caso fatevi conoscere bene dal cane, portatelo fuori diverse volte, passate del tempo con lui e parlate con i volontari per farvi raccontare quello che si sa della sua storia e quello che hanno potuto osservare del suo carattere. Fate attenzione al colpo di fulmine, all'amore a prima vista, perché il cane è un compagno che avremo per 10-15 anni, quindi una buona parte della nostra vita e per tutta la sua vita. Quindi è bene essere ben assortiti, deve essere una scelta consapevole e non dettata sull'onda dell'emozione, da una sensazione, anche perché se il cane ha delle esigenze che non collimano poi con le nostre esigenze, è un bel problema, soprattutto per il cane. Se volete prendere un cane, vi consiglio vivamente di fare una consulenza pre-adozione con un educatore cinofilo che venga a casa vostra e osservi quindi l'ambiente in cui il cane andrà a vivere e valuti insieme a voi quali sono le razze che più si adattano, più sono adatte, diciamo, al vostro stile di vita, piuttosto che vi aiuti a cercare il cane adatto per voi in canile. Ricordatevi che un cane è per sempre. Alla prossima, ciao! Ciao!